Il nostro telegiornale è un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra Il nostro telegiornale che apriamo parlando di cronaca e andando a Montesilvano Tentato omicidio questa mattina infatti in una palazzina di Via Lazio Un uomo di 45 anni ha coltellato la madre che ora è in ospedale ma fuori pericolo di vita Il servizio è di Alfredo Primante Ci potrebbero essere i problemi psichiatrici di un 44enne alla base della lite sfociata In accoltellamento all'interno di un appartamento di Via Lazio 61 a Montesilvano Il figlio della vittima avrebbe così sferrato una decina di colpi con un coltello da cucina La madre 65enne che successivamente ha avuto la forza di chiamare aiuto e contattare il 118 E' stata trasportata all'ospedale di Pescara E sebbene non sia in pericolo di vita ha riportato diverse ferite alla schiena Che le hanno causato anche il perforamento della pleura Ragione per la quale è stata sottoposta ad intervento chirurgico Anche il figlio della donna è stato trasportato in ospedale Sia per la medicazione di alcune ferite provocate dalla colluttazione Ma soprattutto per un consulto psichiatrico specialistico Anche per accertare le cause dell'aggressione Ora è piantonato dai carabinieri della compagna di Montesilvano Che stanno indagando per accertare le cause del gesto Adesso cambiamo argomento Parliamo dei dati dell'emergenza sanitaria Sanitaria dati che restano confortanti Quelli dei contagi covid in Abruzzo Che oggi fanno segnare un più uno rispetto a ieri Purtroppo però non si fermano i decessi L'ultima vittima è un 85enne di Montesilvano C'è solo un paziente in terapia intensiva Per quanto riguarda l'emergenza coronavirus Nella nostra regione La curva dei contagi continua ad essere sostanzialmente piatta Con un nuovo caso su un totale di 1530 tamponi analizzati Pari allo 0,06% di positivi sul totale In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza Sono stati registrati 3280 casi di positività al covid-19 Meno due perché sono stati rettificati due falsi positivi del 14 giugno In ospedale restano ancora ricoverati 53 pazienti Ma scendono di 5 rispetto a ieri Altri 353 sono in isolamento domiciliare Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 459 pazienti deceduti Più uno però rispetto a ieri L'ultimo decesso riguarda un 85enne di spoltore 2414 sono i dimessi guariti Più 25 rispetto a ieri 2297 sono le persone che hanno risolto definitivamente l'infezione Gli attualmente positivi in Abruzzo Così calcolati Sottraendo al totale dei positivi Il numero dei dimessi guariti e dei deceduti E pari a 407 Con una diminuzione di 27 unità rispetto a ieri Del totale dei casi positivi 246 si riferiscono alla ASL Aquilana 830 a quella Teatina 1542 a quella Pescarese E 662 alla ASL di Teramo Cambiamo argomento adesso perché non si placa la polemica Riguardo all'annullamento deciso dal Ministero dell'Ambiente Del bando che aveva assegnato i lavori di bonifica di bussi Intanto Costa e le Ministro rassicura Che i 47 milioni destinati alla bonifica e alla reindustrializzazione del sito Torneranno agli abruzzesi Giuseppe Lintino Il Ministero dell'Ambiente si contraddice da solo E quanto emerge dei documenti scovati dal Forum dell'Acqua Riguardo il bando per i lavori di bonifica di bussi Oggi il Ministero dell'Ambiente annulla il bando Vinto da una ditta belga Con la motivazione per cui il progetto presentato Non soddisfarebbe i requisiti di bonifica Il Ministero però non è sempre stato di questa idea Nel 2017 infatti vi fu un ricorso Niente poco di meno che da parte di Toto Holding In quell'occasione come si legge nelle carte Il Ministero rivendicò nero su bianco la legittimità del bando Oggi però il Ministero ha ribaltato la propria posizione Utilizzando proprio gli argomenti di Toto per annullare il bando Quegli stessi argomenti che il Ministero aveva smontato Il Ministro Costa così sembrerebbe dire tutto il contrario di tutto Considerando che il 23 gennaio 2019 Durante una visita in Abruzzo Defini corbellerie e le voci riguardo il possibile annullamento del bando E che i lavori sarebbero iniziati entro pochi giorni Ha annullato questo bando Sollevando delle criticità Che da un lato tecnico abbiamo smentito Già carte alla mano non esistono Sono proprio insussistenti E oggi addirittura divulghiamo una memoria dell'Avvocatura dello Stato Scritta per conto del Ministero dell'Ambiente nel 2017 Quando c'era un ricorso promosso da Toto Dal gruppo Toto contro il bando oggi annullato Ebbene in quell'occasione l'Avvocato dello Stato Difendeva a spada tratta la legittimità della gara e del bando Addirittura smontando gli stessi argomenti Che oggi il Ministero usa per annullare la gara Siamo al teatro dell'assurdo Appunto addirittura l'Avvocato dello Stato Diceva che il ricorso di Toto Era anche infondato per una tardività Nel sollevare queste criticità E stiamo parlando del 2017 Passano tre anni e il Ministero dell'Ambiente Riprende i motivi di Toto Li usa per annullare il bando A cinque anni dalla sua indizione Veramente incredibile Qui rischiamo da un lato Che la ditta che aveva vinto la gara Farà probabilmente ricorso chiedendo molti danni Ma il danno è ai cittadini abruzzesi Che si vedono ritardare la bonifica Di molti molti anni Perché si dovrà riniciare da capo Mentre invece avevamo un progetto Che prevedeva la rimozione completa dei rifiuti Dalle discariche 2A e 2B Quindi la bonifica integrale Che poteva I lavori potevano partire immediatamente Bonifica appunto è a capo quindi Il che fa guadagnare tempo ad Edison Che secondo la provincia di Pescara Il Tar e il Consiglio di Stato È responsabile dell'inquinamento E in quanto tale deve tirar fuori soldi Per la bonifica Edison ha annunciato un ulteriore ricorso In Cassazione Qualora anche la Cassazione Confermasse le sentenze precedenti Sarà Edison a dover riformulare Nuovi progetti di bonifica Che soddisfino tutti i requisiti Perché annullato il bando I lavori nel frattempo non partiranno Così le tonnellate di rifiuti tossici Rimarranno lì Sepolte nel cuore della nostra regione Ancora per anni Lo Stato è competente Per il sito nazionale di bonifica di bus Dal 2008 Sono passati 12 anni E non si muove neanche un chilo di rifiuti E qualcuno Io spero che la procura Intervenga Per chiedere al Ministero dell'Ambiente Conto di questi ritardi Perché nel frattempo Mentre noi parliamo Da quel sito Escono cancerogeni Che vanno verso valle E vanno anche in aria Intanto i fondi per il sito di interesse nazionale Fanno avanti e indietro In modo quanto meno curioso Dal Ministero dell'Ambiente Erano stati misteriosamente ridesegnati A quello dell'economia Maura Costa rassicura I 47 milioni Saranno restituiti Agli abruzzesi In realtà dice una cosa Che dovrebbe essere ovvia I fondi non erano nella sua disponibilità Per il semplice fatto Che il Parlamento Nel 2011 Ha segnato I fondi Che erano del terremoto Peraltro Alla bonifica di bussi Nel 2011 Nove anni fa Quindi il Ministro Invece di fare Trionfalismo Diciamo così inutile Dovrebbe spiegare come mai In questi nove anni Questi fondi Non sono stati spesi E di bussi Ha parlato Questo pomeriggio Anche il governatore Della regione Abruzzo Marco Marsiglio Perché la regione La provincia di Pescara E il comune di bussi Sono pronti A portare in tribunale Il Ministero dell'Ambiente Rispetto alla revoca Dell'appalto Per la bonifica Delle discariche Dei veleni Purtroppo a bussi Dove dopo tanti anni Troppi anni Si era arrivati Ad avere Finalmente Una gara di appalto E un'impresa Che avrebbe potuto Già da un anno Se non di più Iniziare questi lavori E portare quindi Alla bonifica Di un pezzo Di questo SIN Si è tutto interrotto Il Ministero Ha annullato la gara Quindi adesso Ci dobbiamo affidare Alla buona volontà Di Edison Di rispettare la legge Di presentare un progetto Ugualmente valido In tempi utili Il timore È che Edison Farà resistenza Ci vorranno anni e anni Solo per arrivare Ad avere Un progetto Condiviso E condivisibile Per questo Noi insieme Alla provincia di Pescara Al comune di bussi Andremo in giudizio Per chiedere Al Ministero Di annullare Questa Revoca Della gara E di procedere All'assegnazione Dell'appalto Perché l'assegnazione Dell'appalto Consentirebbe Domani Di iniziare i lavori E di farlo In danno di Edison Ovviamente I soldi Li anticipa Il Ministero E poi Da Edison Dobbiamo solo Farci ridare i soldi È molto più semplice Farsi ridare i soldi Da Edison Che non costringerli A fare Un progetto Credibile Serio Di bonifica Cambiamo argomento Adesso Allarme Nel mondo Della scuola La CGL di Teramo Rende noto Che a partire dal 1 settembre Solo in provincia di Teramo Andranno in pensione 226 lavoratori Tra docenti Personale ATA E dirigenti scolastici La preoccupazione Del sindacato È che Alla rientro a settembre Molti studenti teramani Troveranno Solo docenti Supplenti La CGL di Teramo Lancia l'allarme Sui pensionamenti Nella scuola L'ambito territoriale Provinciale di Teramo Ha comunicato infatti Che dal 1 settembre 2020 Per la provincia di Teramo Andranno in pensione 226 lavoratori Della scuola 178 docenti 45 personale ATA E 3 dirigenti scolastici Nei giorni scorsi Si è tenuto L'incontro richiesto Dalle organizzazioni sindacali Con il Ministero dell'Istruzione E l'Inps Proprio per fare il punto Sullo stato di lavorazione Delle domande di pensionamento Previste per il prossimo Anno scolastico E le domande accolte Sono state complessivamente Oltre 40.000 Però Tra le posizioni Per le quali È stato certificato Il diritto a pensione Solo il 37,6% Avrà la certezza Del pagamento corretto A settembre E questo rappresenta Un problema molto serio Sicuramente I pensionamenti Libereranno posti Che saranno utilizzati Sia per i trasferimenti Che per le emissioni In ruolo Purtroppo Sottolinea il sindacato Molte sono le classi Di concorso scoperte Per mancanza di graduatorie Sia concorsuali Sia ad esaurimento E dunque Ci saranno ancora Tanti supplenti Che parteciperanno Al balletto delle nomine E non potranno Consentire un organico stabile È facile immaginare Che non tutti gli studenti E al rientro Il primo settembre Troveranno i docenti Incaricati La CGL di Teramo Chiede per questo Interventi sostanziali Sulla scuola Un settore pubblico Fondamentale Per il nostro paese Al pari di altri diritti sociali Come ad esempio Quello alla salute La scuola infatti Garantisce il diritto All'istruzione Un pilastro indispensabile Della nostra democrazia E della crescita civile Cambio di comando Al vertice Della direzione marittima Di Pescara Dopo quasi Due anni e mezzo Di comando Il capitano di Vascello Donato De Carolis Ha passato Il testimone Al capitano di Vascello Salvatore Minervino Già in passato Comandante in seconda Della direzione marittima Di Pescara Passaggio di consegne Nella capitaneria di porto Di Pescara Donato De Carolis Non è più il comandante Della direzione marittima Bruzzo Molise Al suo posto Subentra Salvatore Minervino De Carolis infatti Ha ricevuto un nuovo incarico A Roma Al ministero dell'agricoltura E della pesca Conoscevo le problematiche Conoscevo anche Le potenzialità Abbiamo lavorato Durante questo periodo Per affinché Il porto di Pescara Ma anche altri porti Bruzzesi Abbiano un futuro Più credibile E' vero che In questi Non più tardi Dell'estate E saranno andati via I lavori della seconda fase Per il porto di Pescara Nella speranza Che i lavori Si completano Al più presto E la città Abbia quello che si merita Il nuovo comandante Salvatore Minervino Così assume Un ruolo delicato In primis Per quanto riguarda L'annosa questione Dei lavori Nei porti abruzzesi E' una bella sfida Però è già In stato avanzato Ci sono i fondi C'è il decreto Che ha approvato Il primo lotto Dei lavori E quindi Cercheremo di farli andare avanti Quanto più speditamente Possibile Perché Con la sicurezza Dei pescatori Insomma Delle unità da pesca Non si scherza Noi dobbiamo assicurargliela In maniera continuativa Si torna a volare Dall'aeroporto D'Abruzzo Dalla prima settimana Di luglio Ryanair Farà ripartire Sei collegamenti Londra Düsseldorf Bucharest Hann Charles Roy Barcellona Con Volotea Invece da Pescara Si volerà per Catania Palermo Olbia E Cagliari Sessore Febo Tornano i voli Dall'aeroporto D'Abruzzo Di Pescara E questa è la notizia Detto Quella di oggi E' una giornata davvero importante Ma è importante Perché dopo il fermo Dopo tutti i problemi Anche di natura economici Che si sono creati Con questo Con questo fermo Perché l'aeroporto D'Abruzzo Ci interessa Come infrastruttura Per il turismo Ma non dimentichiamo Che l'Abruzzo Ringraziando Dio E' la prima regione Del centro-sud Come numero di industria E come numero di occupati E quindi ci serve anche Per l'attività economica Iniziamo con voli importanti Che ci garantisce Volotea Ma che ci garantisce Anche l'estero Con Ryanair Oggi inauguriamo Tutto Quello che è La sicurezza All'interno Dell'aeroporto Che comunque va data Sia all'Enac Ma soprattutto ai viaggiatori Chi viene in Abruzzo Deve sapere Che è Il nostro E' un aeroporto Oramai Controllatissimo Dove c'è il rispetto Di tutte le disposizioni Per il distanziamento E di prevenzione Un scanner Segnaletica orizzontale Verticale Ovunque Contenimento delle persone Al massimo Della capienza dell'aeroporto Con spazi esterni Di attesa Ove fosse necessario Quando ci sono più voli E controllo assoluto All'interno dell'aeroporto Che tutti indossino Sempre la mascherina Comunque Perché come sapete E' stato tolto Il posto vuoto Negli aeroplani Quindi bisogna stare vicini A delle persone Ed è giusto Che questo avvenga Con la mascherina E con tutte le misure Poi le mani I dispenser I termoscanner Nel caso in cui Qualcuno abbia la febbre Verrà allontanato Abbiamo un posto Di intervento Del 118 E dell'asta di Pescara E quindi Un immediato intervento Delle forze sanitarie Nel rispetto Della privacy Della persona E comunque Della sicurezza Delle altre Ma il nuovo bando Ci stiamo ragionando Perché lo abbiamo ritirato Perché chiaramente Non potevamo immaginare Di poter fare un bando Con questa situazione Oggi stiamo affrontando Altre ipotesi Buone Perciò dicevo Si sta lavorando Credo che Nel giro di 10 Massimo 15 giorni Potremo concludere Altri buoni accordi Il sindaco di Bolognano Guido di Bartolomeo Il vice sindaco Adelaide Chiacchia E due consigliari comunali Vincenzo Nuccitelli E Toni Capitanio Rappresentanti Di una lista civica Entrano ufficialmente In Fratelli d'Italia Sindaco Oggi L'ufficializzazione Dell'ingresso In Fratelli d'Italia Come è maturata Questa decisione Questa decisione Era già Nella mia mente Da tempo Sin da quanto Mi sono presentato Nella candidatura elettorale Che come voi sapete Ho maturato un anno Un mese fa Che faccio il sindaco In quanto credo Nei valori Della legalità La sincerità E la correttezza Che sono simboli Di questo partito In cui mi sono avvicinato Oggi Faccio presente Che devo Un grazie di cuore Alla figura del presidente Marco Marsilio Che durante la mia Campagna elettorale E successivamente La mia vittoria Mi ha sempre sostenuto Con Guerrino Testa Nelle vicissitudine Diciamo così Amministrative Ma oggi Una conferma Della crescita E della diramazione Di Fratelli d'Italia Nella regione Abruzzo E anche ovviamente Nella nostra provincia Di Pescara Oggi Importante ingresso Di una parte Importante Del comune di Bolognano Abbiamo il sindaco Il vice sindaco E due consiglieri Oltre al consigliere Comunale Di Di Carpineto Della Nora Quindi anche per bilanciare La Valle Vestina Tutto ciò Si è reso possibile Grazie al lavoro Che il nostro leader nazionale Sta facendo ormai da anni Ma anche Da parte di questa Amministrazione regionale Con a capo Il nostro presidente Marco Marsilio Che evidentemente In maniera Chiara Netta Con la schiena Sempre dritta Sta lavorando Per cercare di risolvere Tante criticità Che la regione Abruzzo Aveva da anni Estatica A regola d'arte Con questo slogan Che il Marina di Pescara Ha presentato La nuova edizione Della sua orma Istorica Rassegna Estatica In programma Dal 9 luglio Al 31 agosto Partirà con un'anteprima Ad ingresso Gratuito Solstizio D'Estatica Dopodomani Domenica 21 giugno Alle 19.30 Torna Estatica Al Marina di Pescara Il tradizionale appuntamento Del porto turistico Che prevede Oltre 35 eventi Si terrà con alcuni accorgimenti Per il contenimento Del Covid-19 La manifestazione Che si svolgerà Dal 9 luglio Al 31 agosto È stata presentata Questa mattina Nel padiglione Beci Tra gli ospiti Di rilievo Filippo Graziani Roy Paci Antonella Ruggero E Rossana Casale Che si esibiranno Nell'anfiteatro Del Marina di Pescara Nell'ambito di Estatica Previsti altri appuntamenti Tra cui Fermenti d'Abruzzo Abbiamo cercato Di fare Tutto quello Che era Nelle nostre possibilità Ma soprattutto Abbiamo puntato Sulla sicurezza Di questo porto Naturalmente Noi abbiamo Un rispetto Della normativa Anti-Covid Massimo Abbiamo distanziato Tutto quello Che si doveva distanziare Abbiamo rinunciato A due terzi Dei nostri Posti a sedere Nel nostro Splendido Amviteatro Perché abbiamo pensato Che In questa Stagione Non potevamo Interrompere Anzi Addirittura Dovevamo Avevamo Il dovere Di farlo La Camera di Commercio È stata sempre A fianco Del Marina E vogliamo Che Questo porto Turistico Abbia Anche Nella parte Della cultura Dell'arte Un ruolo Importante Nella nostra Collettività Presidente Ripartono I grandi appuntamenti Al Marina Di Pescara Riparte La stagione estiva E questa È già una grande notizia Spero proprio di sì Il Marina Di Pescara Si sta attrezzando Per ridare Un'estate Con tutto Il possibile Comfort Che si riesce A dare Alla cittadinanza In questo momento Particolare C'è stato anche Il rinnovo Nel Consiglio D'amministrazione Abbiamo puntato Come Camera di Commercio Con l'amico Salce Che È già Abbastanza Vaccinato Di questa Amministrazione In quanto È stato È stato Da anni Nell'interno Della Camera Come membro Regiunda E allora Conosceva già Il sistema Del Marina Con tutta La sua esperienza La sua volontà È stato prescelto E sono convinto Che farà Un ottimo lavoro Adesso parliamo Di sport E di calcio E partiamo Dalle misure Di sicurezza Ovviamente Perché una circolare Del Ministero Della Salute Ufficializza L'allentamento Del protocollo Delle partite E domani Si torna in campo Per il turno Di campionato In Serie B Che vedrà Anche protagonista Il Pescara Andrea Costantini La quarantena Soft E realtà La circolare Emanata Emanata oggi Così da poter Avere il risponso Entro quattro ore Coloro che saranno Negativi Avranno L'autorizzazione Di entrare Nello stadio Per la disputa Della gara Al termine Della quale L'intero gruppo Tornerà Nella struttura Per proseguire La quarantena Fino al termine Previsto Sotto sorveglianza Attiva Quotidiana Da parte Dell'operatore Di sanità Pubblica Del dipartimento Di prevenzione La circolare Firmata Dalle dirigente Generale Della prevenzione Sanitaria Del ministero Della salute Gianni Rezza Elimina dunque Il principale rischio Per la ripartenza Del calcio Cioè L'impossibilità Di giocare Durante le quarantene Con la forte probabilità Di rinvii Di diverse partite E l'impossibilità Di individuare Date di recupero All'interno Di un calendario Già ingolfato Di impegni Così Anche dopo La positività Riscontrata Al calciatore Lagunare Felicioli È destinata A giocarsi Regolarmente La partita Programmata Per domenica Tra Pordenone E Venezia L'antipasto Della Serie B È stato servito Già con il recupero Vinto ad Ascoli Dalla Cremonese Nel pomeriggio L'anticipo Della 29esima giornata Tra Spezia Ed Empoli Domani Buona parte Del programma Del turno Con il match Dell'adretico Cornacchia Tra Pescara E Juve Stabia Match che A proposito Di protocolli Testerà Quello Per l'organizzazione Delle partite Che prevede L'arrivo scaglionato Di steward Forze dell'ordine Responsabili Della sicurezza Tecnici Del broadcaster Il limitato numero Di giornalisti E fotografi Tutti sottoposti A misurazione Della febbre Con termoscanner A seguire L'arrivo Degli arbitri E delle due squadre Dirigerà l'incontro Daniel Amabile Di Vicenza Che con il Delfino Ha un solo precedente La vittoria Di Livorno Di fine dicembre 0-2 5 precedenti Tutti in serie C Con la Juve Stabia Con ben 4 vittorie Delle Vespe E un pareggio All'Adetico Cornacchia 5 I precedenti Tra le due squadre Con un pareggio E 4 vittorie Bianca-azzurre Le ultime due In serie B 2-0 Nell'anno 2011-2012 E 3-0 Nella prima giornata Del campionato 2013-2014 E oggi per il Pescara Seduta di rifinitura Al poggio degli olivi Nel pomeriggio Conferenza stampa Di Nicola Le grottaglie Ovviamente in videoconferenza Il tecnico Bianca-azzurro Si è detto sereno Anche se un po' teso Per il ritorno in campo Dopo tanto tempo Ascoltiamo i passaggi salienti Della conferenza stampa Del tecnico pugliese Io posso dire Che essere contento E soddisfatto Del lavoro che i ragazzi Insieme allo staff Abbiamo fatto Con tutto l'ambiente Qua Poggio degli olivi Perché io metto sempre tutti È stato difficile È stato anche un po' Complicato Riprendere Riattivare una macchina Ma poi piano piano La macchina da tre Deve cominciare a diventare calda Adesso non ci sono più Diciamo Scusa Adesso dobbiamo solo Far andare questa macchina Al meglio possibile Io ho cercato in seconda Di prepararla al massimo Per questa macchina Però ovviamente Domani sarà il primo test E capiremo In che condizioni siamo Sappiamo che ci saranno Dei deficit Ma per Una questione fisiologica E quindi scientifica Quando non hai Un grande minutaggio Nelle gambe E non fai tante partite Prima di iniziare Ovviamente sarai Un pochettino Indietro Ma Riusciremo Ecco Secondo me A Entrare Ecco in forma Attraverso le partite Non ho provato Né 4-4-1-1 Né 4-3-3 Né 4-2-3-1 Io ho provato I giocatori In campo Non mi soffermo Molto sul 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 modulo Ma mi sono soffermato E ho osservato Solo la condizione Di giocatori E in base a come Poi affronteremo La partita domani Durante la gara Ci saranno Credo Tutti i moduli Quindi Sia 4-3-3 Sia 4-4-2 A volte Quando non c'è la palla Quando c'è l'hai Cioè Dipende molto Dall'avversario E dipende molto Dal pallone Valzano Io credo che Non sarà mai pronto Se non inizia a giocare E quindi Questo è il mio Il mio concetto Cioè Un giocatore Se non gioca Non sarà mai pronto Quindi Prima Lo mettiamo in campo Perché noi sappiamo L'importanza Di questo giocatore Per esperienza Per caratteristiche Per carisma Io Punto molto Su questi giocatori Soprattutto in questo momento Particolare Dove C'è bisogno Di tirare fuori Ecco Tutto quello che è L'esperienza E carisma Di un giocatore Quindi cercherò Di sfruttare al massimo Quello che Sono le mie risorse Per Palmiero Ovviamente Lui è unico In quelle caratteristiche Come dicevi bene tu Quindi sì In base a quello Valuterò anche L'insieme Del centro campo Come farlo rendere Al massimo È una scelta A volte Io lavoro Sulle caratteristiche Quindi Sono d'accordo con te Che l'assenza Di Palmiero Determina poi Le altre scelte Sereno Sempre Ma teso Cioè Tutte e due Sono sereno Sì Perché comunque La partita in calcio È bello Purtroppo non ci saranno I tifosi Che è la cosa Che a me Ti spiace Perché il calcio Sono i tifosi Però C'è da fare questo Percorso Lo faremo Con tanta gioia E tanta passione Lo stesso Però Teso Teso Perché Diciamo Concentrato Perché Sto lì A focalizzarmi Sull'obiettivo Che è quello Che è domani Perché domani È il nostro obiettivo Domani è una grande opportunità Come le altre nove Quindi sono dieci Grandi opportunità Che abbiamo Per poter dimostrare Di amare questa maglia Lo puoi immaginare Il piano tattico Perché ognuno Ogni allenatore ce l'ha Però quello Devi mettere nel contesto E capire Che cosa accade Perché tu dici Ok Loro sono bravi lì Sono meno bravi lì Loro diranno di noi La stessa cosa Poi devi capire Come risponde La tua squadra Sulle situazioni in campo E accostato Proprio al Pescara In vista Della prossima stagione Il tecnico Della Juve Stabia Fabio Caserta Ha parlato Della partita di domani E delle incognite Legate alla lunga sosta Ma è cambiato parecchio Rispetto a Un'annata Tra virgolette Normale Abbiamo dovuto Modificare Un po' di cose Ma non credo Solo noi In questo caso La Juve Stabia Ma tante altre società Ci siamo adeguati Ci siamo dovuti adeguare A tanti problemini Che spero Che alla fine Questi cambiamenti Possano Essere alla fine Importanti E positivi Sulla tutto Perché Non avendo Uno storico Di quello che è successo Non sappiamo Come gestirlo Però Speriamo Di aver fatto Un buon lavoro Questo è quello Che poi ce lo dirai Alla fine Nel campo Sicuramente sono Dal punto di vista fisico Le insiede sono quelle Dal punto di vista fisico Soprattutto Il ritmo Non sarà Come magari Le ultime partite Sarà un ritmo Sicuramente Molto più basso Ma la cosa che Spero Che non Non ci siano infortuni Perché questo È il maggior rischio Secondo me Dopo tre mesi Di inattività Sarà una partita Difficile Perché Anche Pescara Vorrà fare di tutto Per portare a casa Tre punti Giocando in casa Noi dobbiamo essere bravi Ad affrontarla Nei migliori dei modi Soprattutto Ad approcciarla Nei migliori dei modi Perché La cosa più difficile Sarà l'approccio Dopo tanto tempo Perché è una cosa Che ti alleni Anche Facendo delle partite A tuttora Ma una cosa Quando Quando ci sono In palio I punti Importanti E quando inizia A incidere Decidere Le sorti Di un campionato Perché alla fine Sono dieci partite Giocate in un mese In 40 giorni Dove ti giochi L'intero anno E noi dobbiamo essere bravi Nelle difficoltà A tirarci fuori Da una situazione Che ancora sicuramente Non ci fa stare tranquilli Parliamo di ciclismo Adesso Perché nel collegamento Ieri sera Con la trasmissione Velo di Luciano Rabottini L'assessore Regionale Allo Sport Guido Liris Ha parlato Delle due tappe Abruzzesi Del Giro d'Italia Sarà l'occasione Ha spiegato Liris Per portare Un grande entusiasmo In Abruzzo In un momento In cui ce n'è Parecchio bisogno Stiamo parlando Città Comprensori Città Territorio Ampi Che vengono Presi Protagonisti Delle pagine Che ci regala La nostra nazione E per Questi territori Significa Tanto Significa Tanto A livello Sociale Significa Tanto A livello Economico È un'economia Che si muove Ed è un entusiasmo Che dà fiducia Alla gente Dà un segno Di una presenza Delle istituzioni E in un momento Del genere Probabilmente Forse il momento Di cui abbiamo Nel quale abbiamo Tanto bisogno Di iniezioni Di fiducia Il territorio Chiede un protagonismo Chiede di essere Tenuto in considerazione C'è un Anche un po' Di disincanto Disillusione Da parte Delle aziende Da parte Delle economie Della ristorazione Della recettività Del nostro territorio Messaggi del genere Di grandi eventi E ne stiamo preparando Anche degli altri Ma chiaramente Le scaramanzia Non li voglio Neanche Citare Certamente La differenza Poi sarà Nella capacità Che avremo Di rendere Sempre più Protagonista Il nostro territorio Rispetto A questi Grandi eventi Il Giro d'Italia Per definizione Diventa Un appuntamento Che Non possiamo Mancare La regione Sarà decisiva Da questo punto di vista Sia con la stessa Sia con la stessa Dallo sport Che con la stessa Lata Al turismo Andiamo di pari passo Andiamo a braccetto Ma andiamo soprattutto In sintonia Con le città Che vengono attraversate In particolar modo Con quelle che Vedranno la partenza E l'arrivo Ma anche con i comprensori Che verranno Interessati Sono delle Delle chicche Pubblicitarie Anche per Un territorio Che regala Montagne E mare Con pochi Minuti Di distanza Di l'unio dalle altre Il mare Dalla montagna Appunto Ma soprattutto Regala Una possibilità In più Anche A un'entroterra Anche a delle zone Interne Che soffrono E non c'è dubbio Che sia così Una difficoltà Maggiore Soprattutto In questa fase Di ripresa Rispetto A un dinamismo Socio-economico Della costa Che dà Una possibilità Di ripresa In più Soprattutto Dopo L'emergenza Coronavirus Quindi Ci siamo E Rendiamo sempre più Protagonista La nostra regione E le città Della nostra regione Quindi siamo felicissimi Da questo punto di vista Questo era anche Il nostro ultimo servizio Vi ricordo Che i contributi Che avete visto Sono disponibili On demand Sulla piattaforma YouTube E anche sul nostro Sito web www.tv6.it Oltre che Sui nostri Canali Social Io vi ringrazio Per la cortese Attenzione E vi auguro Un buon proseguimento Di serata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti